Questa è anche la zona in cui doveva esserci la cupola della Chiesa, perché lo storico Giuseppe Dascia ci dice anche, definisce la Chiesa di Santa Lucia a croce latina ma alla San Pietro, cioè non con la cupola rivolta nella zona dell'altare maggiore, però nell'incrocio con le cappelle laterali. Don Pasquale ci raccontava che qui c'era la pavimentazione antica, prevedeva un bel mosaico con l'immagine di Santa Lucia, che naturalmente a causa del terremoto e poi dell'alluvione è andato perso e il livello della Chiesa si è innalzato, perché molte delle macerie delle case circostanti e anche della Chiesa probabilmente sono state poi ammassate e si è edificato sopra. Infatti anche Dascia ci dice che per entrare in Chiesa bisognava scendere degli scalini e quindi la struttura della Chiesa, dopo questi sconvolgimenti naturali, ha subito delle modificazioni. Purtroppo però non è possibile ricostruire l'aspetto originario. Chissà che scavando non esca fuori quel mosaico di cui si parlava. No, Don Pasquale diceva che quando Don Pasquale è arrivato qui non c'era neanche il pavimento, c'era solo la pavimentazione in cemento e lui ogni volta che veniva a celebrare messa alle 9 di mattina trovava d'inverno proprio delle conchette d'acqua e lui doveva prima togliere l'acqua per far entrare le persone. E diceva che quando lui ha fatto le cosiddette camere d'aria sotto qui per areggiare anche lui, perché ha avuto tanti modi per togliere questa umidità, ma purtroppo ancora non siamo riusciti, diceva lui che quando ha scavato sotto e poi ha rifatto anche l'altare, perché giustamente la mensa si è dovuta spostare verso i fedeli dopo il concilio, ha trovato questo pavimento ma nel contatto con l'aria è sfumato, ma era fatto in maiolica locale e sono rimaste solo tre mattonelle che poi andremo a vedere in sagrestia. Una cosa importante anche per rivalutare questo luogo, nel 2004 la Chiesa ha celebrato il diciassettesimo centenario del martirio di Santa Lucia. avendo avuto tramite la stampa, tramite i social, l'eco anche qui a Furio di questo centenario, abbiamo celebrato insieme a Don Pasquale un centenario non nei fasti delle feste folcloristiche, ma nel rivalutare la parrocchia. Don Pasquale all'epoca volle una missione popolare di padri passionisti e delle suore passioniste in modo che visitassero tutte le famiglie della parrocchia. E dal 27 di novembre fino al 14 di dicembre queste famiglie fecero una visita capillare di tutte le famiglie della parrocchia. E se la parrocchia ha avuto un restauro e anche un riverdire di persone che collaborano è grazie anche al centenario di Santa Lucia. Poi ci fu la messa del Vescovo Strofaldi, il quale lesse anche la benedizione papale di Giovanni Paolo II, che dava e impartiva la benedizione apostolica sia su Don Pasquale e sia su coloro che entravano qui in chiesa per la devozione a Santa Lucia. E concesse anche l'indulgenza plenaria a tutti coloro che partecipassero alla messa e pregassero per il Santo Padre. E fu allestita all'interno della sagrestia anche una mostra, una piccola mostra, per riscoprire la storia di questa Santa. Anche perché, come dicevo all'inizio, si conosce ben poco a livello popolare. Ma se si va a documentarsi abbiamo delle ricerche ben precise, anche storiche, che poi si regano anche al nostro vissuto foriano. Voi insieme al gruppo di lavoro che ti sta aiutando e insieme naturalmente anche alla professoressa Sferatore, avete rilanciato quest'idea della piccola mostra, piccola ma ricca di significati, e qui all'ingresso della chiesa si possono ammirare queste foto con anche i riferimenti, chiedo scuso, ho sbagliato, si inizia di là. Pietro, scusami, andiamo da quest'altra parte perché il percorso, come tutte le mostre, c'è un percorso da seguire e noi naturalmente possiamo solo seguire Gian Paolo. Diciamo che questa mostra richiama un po' un lavoro che io feci dopo il centenario per un'esercitazione all'Università Teologica di Capodimonte e la feci proprio su questa martire che sono legato particolarmente da quando sono piccolo. La prima immagine è questa qui, del verosimile del volto, perché riprendendo il cranio della Santa, perché noi abbiamo a Venezia conservato il corpo nella Basilica dei Santi Geremia e Lucia, facendo questo studio e riprendendo il cranio abbiamo avuto modo di vedere le fattezze naturali e vere di Santa Lucia. Una cosa molto importante che si nota è il taglio al collo, perché il codice Pappadopolo prevede due versioni, o che è stata sgozzata o decapitata, però si pensa che sia stata più decapitata perché il cranio porta il distaccamento dalla parte principale del corpo. Qui vediamo il corpo della Santa custodito nell'urna lì a Venezia e fu ceduto a Costantinopoli. Poi fu riportato dai veneziani che rubarono il corpo alla città di Costantinopoli, perché era una città marinata, arrivò a Venezia e lì purtroppo è rimasto. Perché purtroppo? Perché Santa Lucia sappiamo benissimo che è di Siracusa, quindi i siracusani, i siciliani, vogliono di nuovo il corpo a Siracusa. E qui si lega il fatto con Forio, perché il cardinale Lavitrano, Luigi Lavitrano, figlio illustre di Forio, era arcivescovo di Palermo e scrisse una lettera al doge di Venezia affinché donasse di nuovo il corpo a Siracusa. Il cardinale Lavitrano, all'epoca arcivescovo di Palermo, oltre a chiedere il corpo di Santa Lucia, nel 1910 scrive al rettore di questa chiesa perché ci fu l'alluvione e consigliò e incoraggiò i monteronesi a riprendere il culto alla martire siciliana, soprattutto quando era un momento di crisi. Immaginate che, dice Don Pasquale, che i sassi e i buoi e tutti gli animali che si allevavano nelle campagne arrivarono giù un mare. Immaginate la gravità della situazione. E si collega anche poi a San Giovanni XXIII, il quale era doge, era patriarca di Venezia, e ricostruì la maschera in argento per far vedere meglio le fattezze del corpo della Santa. Noi in questa chiesa costudiamo la lettera che il cardinale Lavitrano diede ai monteronesi, al rettore di questa chiesa, nell'incoraggiamento della ricostruzione sia del Tempio ma anche del culto alla Santa. Ed è proprio questa qui che noi conserviamo nella sacrestia della chiesa, firmata e autografata dal cardinale Lavitrano. Un'altra particolarità che è differente dagli altri cenni storici di altri martiri, che purtroppo, come dicevo prima, i cenni storici venivano tramandati da padre in figlio, quindi venivano arricchite o diminuite dalla devozione personale, è questa iscrizione di Euskia, che si trova nelle catacombe a Siracusa di San Giovanni, proprio nella zona catacombale che poi prende appunto l'importanza del culto, ma anche della storicità e della felicità della vita di Santa Lucia. Dice questa epigrafe, l'irriprensibile Euskia, vissuta buona e pura per anni circa venticinque, morì nella festa della mia Santa Lucia, per la quale non vi è elogio o condegno. Fu cristiana fedele, perfetta, grada suo marito di molta gratitudine. In poche parole è una lapide mortuaria. Questa è importante perché? Perché già fa capire che dal V secolo d.C. la storicità di Santa Lucia, il culto della martire siracusana, era appunto già impregnata nella vita dei siracusani.